masserie sotto le stelle La tappa salentina del Pride il 28 giugno, cosa vedremo? Vedrete appunto la parata con tanti colori, tanta musica, tanto divertimento, carri, gruppi folkloristici e tante persone La partecipazione anche del presidente Vendola è prevista? Sì, verrà il presidente della giunta regionale Vendola dopo che ha concesso il patrocino anche della regione Puglia Non solo omosessuali però l'invito è aperto a tutti Sì perché il Pride è con lo slogan del Puglia Pride insieme siamo più forti e quindi insieme davvero possiamo farcela per i diritti della comunità LGBT perché sono diritti solo di una comunità ma è compito di ognuno di noi affinché ci sia democrazia e libertà completa lottare tutti insieme Sul piano dei diritti proprio civili ancora dobbiamo lavorare Non esiste qui uno sportello per l'accoglienza delle persone che volessero essere accolte e poter parlare delle questioni che riguardano loro Non esiste il registro delle unioni civili, non esistono delle sedi per le associazioni Per questo lavoriamo, quindi a livello dei diritti stiamo molto indietro ma siccome siamo indietro in tutto il territorio nazionale almeno dicevo prima di 15 anni rispetto al resto dei paesi europei cioè è una cosa veramente vergognosa Però quanto a apertura e mentalità del territorio della gente salentina devo dire che io trovo la gente salentina fantastica da questo punto di vista ci sono delle eccezioni, le abbiamo incontrate nelle scuole, le abbiamo incontrate nelle famiglie fra i docenti, a volte ci sono ma nel complesso trovo questo territorio aperto, pronto, proprio pronto ad accogliere tutti i suoi figli Grazie a tutti